Se sei un fotografo o un videomaker devi sapere che da anni noi operatori del settore abbiamo la possibilità di monetizzare e quindi di guadagnare dei soldi sulle nostre fotografie e sui nostri video semplicemente mettendoli su delle piattaforme apposite dove possono essere comprati da dei clienti in giro per tutto il mondo. Questo soprattutto agli inizi è stato un grande vantaggio per chi l'ha saputo cogliere e molti fotografi, compreso il sottoscritto, si sono costruiti un vero e proprio corredo con i soldi che gli arrivavano dalla fotografia di microstock, quindi realizzando delle fotografie che poi venivano vendute a clienti in giro per il mondo che le compravano per gli scopi più disparati. Io in corso di video passati vi ho parlato bene del mondo del microstock, ma ecco che nel contenuto di oggi vado a esaminare un po' di dubbi che mi sono venuti soprattutto di recente. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, sono un fotografo di stock e di microstock da tanti anni, non voglio dire da quando è iniziato tutto, ma di lunga data, insomma sono diversi anni che sto in questo settore, ho visto dei cambiamenti ogni anno in questo settore. Devo dire che le cose che sto vedendo di recente stanno tirando fuori in me un po' di pessimismo per quanto riguarda il futuro di questo settore. Andiamo a parlarne nel video di oggi, ma prima vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Io vedo dalle statistiche che il 60% di chi guarda i miei contenuti non è iscritto al canale. Questo è un peccato perché è gratis e semplicemente con il clic del bottone qui sotto rimanete aggiornati sui miei prossimi video. Benissimo, ma cominciamo dall'inizio. Dovete sapere che un bel giorno qualcuno nel mondo ha avuto la brillante idea di creare delle piattaforme, degli archivi in cui catalogava delle fotografie di fotografi che ovviamente prestavano il loro consenso e quindi erano informati di questa cosa e quindi questi archivi venivano messi a disposizione di clienti che compravano le foto per gli scopi più disparati, riviste, giornali e quant'altro. Mi ricordo di aver letto degli articoli sull'inizio di questo mondo. Pensate che questi archivi inizialmente erano cartacei, per cui c'era un archivio di negativi e quando qualcuno chiedeva una foto, questa foto veniva tirata fuori, veniva preso il negativo, veniva stampata nelle dimensioni richieste e veniva inviata per posta al giornale, alla rivista che l'aveva richiesta. Un altro mondo. Era sicuramente affascinante. Oggi è tutto diverso, ovviamente la circolazione delle immagini è istantanea, molto più veloce, molto più comoda, non costa più così tanto, non c'è più nemmeno di mezzo un corriere. Rendetevi conto che una volta, solamente per il fatto di dover mandare una fotografia via corriere, probabilmente partivano dei soldi, anche tanti, magari doveva andare per aeroplano questa fotografia. Oggi è tutto più semplice. Infatti oggi le fotografie di microstock costano niente, letteralmente niente. Quando io, che sono un fotografo, un contributor, si dice, di queste piattaforme, carico una fotografia, so già che per una fotografia caricata, qualora venisse comprata, che è tutto da vedere, perché non è detto che le mie foto vengano comprate, ma se venissero comprate, io so che mi verrebbe corrisposto qualcosa nell'ordine dei 10 centesimi. La maggior parte delle piattaforme ha una politica di questo tipo. Vendiamo una tua foto, la vendiamo a 10 euro, noi ci teniamo 9,99 euro, da cui poi dovremo pagare le tasse, e a te fotografo diamo 10 centesimi, da cui poi dovrai pagare le tasse. E c'è pure il cambio di mezzo, perché quei 10 centesimi sono in dollari. Per cui in pratica ti arrivano 8 centesimi, su cui devi pure pagare le tasse. Questo che cosa significa? Se fino a qualche anno fa io consigliavo questa pratica, perché per me almeno aveva funzionato, fino a qualche anno fa la consigliavo, ma adesso con i prezzi attuali e con l'ingresso dell'intelligenza artificiale che comporta un ulteriore handicap, perché significa che chiunque, anche non fotografo, anche senza una fotocamera, può con un cellulare mettersi a produrre tonnellate di immagini finte, la maggior parte delle volte obrobriose, però le può caricare tanto quanto noi fotografi esperti, significa che abbiamo perso un vantaggio competitivo che fino adesso abbiamo avuto e che quindi dobbiamo confrontarci con un mercato in grandissima espansione. Attenzione, ho detto in grandissima espansione, ma allora perché sono così pessimista? Ve lo voglio spiegare proprio nel video di oggi. Allora, mercato in espansione, nel senso che i social media non sono mai stati pervasivi come oggi e ieri non erano mai stati pervasivi come ieri e domani non saranno mai stati pervasivi come domani. Le grandi aziende del tech stanno mettendocela tutta per rendere i social sempre più pervasivi, perché non si accontentano mai, sono un po' ingorde, diciamocelo pure, nonostante sappiano, perché ci sono delle ricerche ormai, ormai lo sappiamo, le persone che lavorano in questo settore lo sanno l'effetto che hanno i social media sulla gente ed è un effetto molto negativo. Abbiamo, al di là delle persone che camminano col cellulare, i cosiddetti zombie da smartphone, non sto parlando di quello. Non vi parlo neanche di limitazioni delle facoltà cognitive, perché non è il mio campo. Vi parlo proprio di qualità della vita. Con i dati che abbiamo oggi, con i dati che le big tech hanno, perché poi non sempre ce li danno, noi sappiamo che i social ci peggiorano la vita e non di poco. I social ci rendono ansiosi, ci rendono arrabbiati, continuano a riproporci cose che generano in noi frustrazione e ci fanno venire voglia di comprare cose per sentirci un po' meglio, ci fanno venire voglia di spendere, ci fanno venire voglia di uscire, di andare in vacanza, di fare cose tutte costose. Siccome non abbiamo risorse illimitate, molti di noi sentono la frustrazione, l'inadeguatezza nel confrontarsi con questo mondo, dove ogni volta che apri sembra che ci sia sempre qualcuno che sta facendo qualcosa di super figo. Noi sappiamo benissimo che stare sui social ci fa male, lo sappiamo tutti, è inutile girarci intorno, lo sa chi ci lavora e lo sa anche chi ci entra solo per guardare foto di gattini, secondo me, però lo neghiamo a noi stessi. Queste compagnie fanno di tutto per tenerci lì sempre più a lungo. E come lo fanno? Utilizzando foto e video. Quindi l'industria dell'imaging, l'industria della creazione di contenuti è in espansione, perché per tenere la gente lì c'è bisogno sempre di più contenuti, sempre di più immagini, sempre più video devono essere caricati ogni giorno. Io non me ne tiro certo fuori, io sono qui a caricare video, quindi sto facendo anch'io questo gioco perverso, ma io vi dico sempre però di non buttare la vostra vita seguendo me, ma di uscire anche a fare delle belle foto. Quindi cerco in qualche maniera di non peggiorare le vite di chi mi segue, ma semmai di migliorarle. Dunque abbiamo un mercato in espansione, e però questo che cosa comporta? Intanto che sempre più gente ci prova. E badate bene, io non sono qui per scoraggiare nessuno, anzi io vi metto in descrizione un link da cui potete iscrivervi direttamente a Shutterstock e provare a caricare i vostri primi lavori. È un link affiliato, questo che cosa significa? Che se qualcuno di voi si iscrive tramite quel link, io non becco un quattrino. Ma se qualcuno di voi carica una fotografia e questa fotografia viene venduta, io prendo 4 cents. Diventerò assolutamente ricco se cliccate questo link e vi iscrivete. È un giochino, è solamente un giochino, e il motivo, secondo me, è che è diventato un giochino nel momento in cui così tanti fotografi e non si sono buttati in questa industria. Perché ormai abbiamo così tante immagini, così tanta gente che ci prova, che abbiamo un surplus di immagini. Di fatto vengono caricate molte più foto di quelle che vengono poi effettivamente vendute. Io stesso. Io credo di aver caricato nel corso degli anni 20.000 risorse, una cosa del genere, che sono tantine, non sono tantissime. Ci sono degli studi che ne hanno su 200.000, io ne ho 20.000, quindi non è tantissimo. Però non è neanche poco. Ha voglia caricare 20.000 risorse? Ci vuole del tempo. Io mi rendo conto che uno che comincia oggi, e quindi carica le sue 10 risorse, 20 risorse, 50 risorse, cioè oggi con la concorrenza che c'è, io mi ricordo quando iniziai, quando iniziai io tanti anni fa con la concorrenza che c'era, ci misi 3 anni a cominciare a vedere i guadagni. 3 anni. Ero disoccupato all'epoca, cioè facevo dei lavoretti, stavo cominciando, facevo intanto l'università, quindi potevo permettermelo all'epoca. Oggi pensare di dire, io sto 3 anni senza stipendio a fare foto di stock, sperando in un guadagno domani, non è assolutamente fattibile. E quindi in questo video vi dico che purtroppo, purtroppo, perché il microstock a me ha dato tanto, però purtroppo credo che non sia più una risorsa che posso consigliarvi come fonte alternativa di entrate. Perché vi darà delle entrate, ma così poche, così diluite nel tempo, e soprattutto dovrete caricare così tante immagini per diventare competitivi rispetto alla molle di immagini che vengono caricate tutti i giorni, che non me la sento più di consigliarvelo e di dirvi, sarà bellissimo, vi divertirete come matti. Sarà frustrante ragazzi, secondo me sarà frustrante. Vi dico questo perché percepisco che potrebbe essere frustrante anche per me. Io ho già caricato tante risorse, quindi ho un flusso di vendite più o meno costante. Io le mie immagini le vendo, anche perché nel corso di questi anni non sono stato a girare i pollici, ho capito cosa scattare, ho capito cosa funzionava e cosa no. Ho capito che cosa ti accettano e cosa no. Questa è un'altra cosa di cui ho parlato in un altro video, ve lo lascio linkato da qualche parte. È una cosa fondamentale questa, perché nel mondo del microstock tantissime foto che noi facciamo, che noi reputiamo bellissime, ci vengono rifiutate. Quindi magari i nostri lavori migliori non riusciamo a veicolarli su queste piattaforme, con la conseguenza che non siamo valorizzati e perdiamo potenzialmente un sacco di compere. Tutto questo è un problema a cui si unisce l'intelligenza artificiale, perché oggi molte di queste piattaforme accettano schifezze, non sono foto chiaramente, accettano schifezze prodotte con l'intelligenza artificiale. Il che significa che laddove prima io per caricare delle foto su una di queste piattaforme dovevo mettermi lì, avere la strumentazione, saperla usare un minimo, saper post produrre un minimo, scaricare le immagini, lavorarle, renderle presentabili, un po' di color, un po' di riduzione del rumore, quelle cose, niente di che, e poi le caricavo, ci volevano delle competenze, ci vogliono ancora delle competenze per fare tutte queste cose. Oggi, chiunque, senza nessuna competenza, si mette lì con Stable Diffusion, crea 5000 immagini, tutte finte, tutte più o meno uguali, micro differente, le carica tutte in massa, e vuoi o non vuoi, ci ha rubato del lavoro, ci ha rubato delle entrate, a noi che abbiamo speso tempo e denaro per diventare bravi a fare quel tipo di immagini, ci vediamo soffiare molte commissioni da gente che non ha nessuna competenza, perché le immagini le ha create il computer. Però questo è un fatto, queste immagini sono entrate, e chi lo sta facendo adesso con l'intelligenza artificiale sta guadagnando pochissimo, ovviamente, perché sta guadagnando proprio come tutti gli altri, cioè sempre meno, sempre meno, sempre meno. Addirittura adesso che si fanno con l'intelligenza artificiale probabilmente le agenzie di stock diminuiranno ancora i tassi, quindi diranno vabbè, finora vi abbiamo dato 10 cents, ma adesso le fate con Stable Diffusion le immagini, quindi adesso vi diamo 5 cents, non valgono niente ormai. Tutti questi motivi insieme che sono un po' un mio sentire, non ci sono comunicati in tal senso, però è una mia, è un mio sentire molto forte. Tutte queste cose messe insieme mi portano a pensare che il mondo del microstock veramente sia così saturo da diventare assolutamente sconveniente per la maggior parte dei fotografi. Non è detto che valga la stessa cosa per i videomaker invece, perché il comparto video è un pochettino più sfruttato, è un pochettino pagato meglio e quindi lì potrebbe ancora valerne la pena, anche se è più difficile vendere, perché una foto da 10 euro si compra a cuore leggero, un video da 200 euro un po' di meno. Dunque, parlando di microstock, ragazzi, che cosa vi posso dire? Consiglio ancora di intraprendere questa strada? Francamente no, perché ci vuole troppo tempo per diventare competitivi avendo caricato un numero sufficiente di immagini, ci vuole troppo tempo per imparare tutti i trucchetti per farsi accettare le immagini e non farsene rifiutare, ci vuole troppo tempo per capire che cosa vende e che cosa no, ci vuole troppo tempo e troppo impegno a fronte del fatto che ci sono tanti come me che sono già dentro e che vi stanno mangiando in testa perché io che sono dentro da 10 anni le mie foto vendono di più di uno che inizia adesso. Chi si mette a farlo adesso con l'intelligenza artificiale magari crea un milione di foto col computer, il computer lavora di notte e io intanto dormo e il mattino mi trovo 5.000 immagini da caricare è invece uno che le fa seriamente e dopo è scontato che chi mi segue sia più fotografo che smanettone sul computer quindi a noi interessa farle davvero non siamo lì a crearle finte ma parliamo di fotocamere di video su questo canale quindi immagino che siamo tutti più interessati a farle davvero le cose non è più competitivo non ci conviene più il che non significa che io vi voglia scoraggiare io vi invito a provarci con serenità sapendo che probabilmente la cosa non andrà in porto e potete tenerlo come un giochino divertente potete tenerlo come un social alternativo dove invece di un like ogni tanto vi offrono un caffè io la vedo proprio così ormai e credo che non ci sia ritorno da questa cosa perché con i recenti sviluppi quello del microstock che è un mondo che a sua volta aveva rovinato una generazione di fotografi che non si vedevano più ingaggiati per fare le foto ma le foto venivano comprate a delle cifre irrisorie su queste piattaforme adesso queste nuove questi nuovi ritrovati tecnologici hanno rovinato volendo una nuova generazione di fotografi che avevano creduto al sogno di poter vivere di microstock e adesso probabilmente non è che non lo possono più fare chi è dentro da tanti anni continua a guadagnare ma di meno e quindi dovrà inventarsi qualcos'altro e chi invece entra adesso farà molta ma molta ma molta più fatica di quella che ho fatto io dieci anni fa per esempio farà molta più fatica di chi è entrato tre anni fa e chi entra fra un anno farà ancora più fatica e via dicendo e questo secondo me lo rende un mercato veramente non percorribile per chi vuole cominciare adesso perlomeno non a livello professionale serio poi vero anche che se avete delle idee brillanti fate delle cose rivoluzionari e delle foto artistiche bellissime che nessun altro fa ecco che lì di nuovo può valerne la pena se facciamo delle foto banali normali a quel punto veramente è un mercato saturo ma se abbiamo un'idea se sappiamo fare qualcosa di veramente bello che magari sappiamo fare solo noi pensateci pensateci perché se tirate fuori qualcosa e non dovete dirlo a me se vi viene in mente fatelo provateci perché l'unico modo per sapere se funziona o no è provarci se pensate di avere qualcosa da offrire qualcosa di bello qualcosa di artistico qualcosa che secondo voi è vendibile provateci e non ditemi che cos'è perché a più persone lo dite e poi qualcuno finisce per copiarvi non ditelo a me che cosa fate non ditelo a nessuno però fatemi sapere se ci proverete e fatemi sapere eventualmente come va con questo amici io vi saluto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo della fotografia del videomaking del design e anche di tutto quello che gli orbita intorno come la compra vendita delle nostre immagini per esempio un piccolo clic qui sotto il canale è gratuito riceverete una piccola notifica che vi segnala il caricamento di nuovi contenuti io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei